Sono Spiccicalle, benvenuti nel mio nuovo video. Oggi è l'11 di ottobre, sabato 11 ottobre, ed è il primo dei due giorni che passerà la fiera del libro di Francoforte. Sono molto entusiasta, molto contenta, per me è il secondo anno di fila, quindi anche quest'anno solterà Lucca, ma ci accontentiamo in questo modo. Siamo quasi pronti e quindi direi che vi abbandono, vi lascio e ci vediamo direttamente alla fiera. Mi raccomando, venite alla fiera con me. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti